Abbiamo detto che siamo in una fase di transizione geomonica, va bene, e questo però implica che se tutto cambia intorno a noi dobbiamo cambiare anche noi, l'alternativa a essere cambiati da coloro che cambiano. La famosa alternativa fra paesi revisionisti e paesi revisionati. Siccome credo che chi partecipa a una scuola qui non vuole essere revisionato ma vuole eventualmente revisionare se stesso e gli altri, qualche piccolo esempio. Prendiamo le tre maggiori potenze. Stati Uniti, Cina, Russia. Noi siamo parte della sfera di influenza, chiamatela come volete, dell'impero americano che oggi vive una crisi profondissima da cui a mio avviso nella migliore delle ipotesi sarà profondamente cambiato, certamente diminuito nella sua credibilità, nella sua influenza, nella sua potenza. Bene, per esempio che cosa vuol dire affrontare l'America dicendo un no? Vuol dire noi abbiamo dei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti che sono in qualche modo codificati da trattati segreti che noi non conosciamo. Credo che aggiornare il rapporto con l'America significhi rifare degli accordi che siano coerenti ai tempi attuali, non quelli che esistevano con l'Italia sconfitta dopo la seconda guerra mondiale e che, ripeto, sono segreti, il che fra l'altro non mi pare proprio inodore di costituzionalità. E se gli americani dicono no, noi pubblichiamo gli accordi segreti, per esempio. Altro esempio, la Cina. La Cina tratta l'Italia come un posto piacevole, attraente, anche molto affascinante. Ricordava Giorgio prima il fascino del diritto, della storia romana, Marco Polo, Matteo Ricci, la Via della Seta, Xi Jinping che viene qui in visita imperiale. Benissimo. È molto importante. Dobbiamo avere dei rapporti con la Cina. Però non dobbiamo essere usati dalla Cina come una piattaforma gratuita, perché di questo si tratta quando noi vediamo che, per esempio, le comunità cinesi si autoamministrano sul territorio nazionale, hanno addirittura le loro polizie, hanno la loro giustizia, non si sa quando muoiono, dove vanno a finire e quindi un'operazione di pulizia sul territorio nazionale nei confronti delle polizie ai cinesi sarebbe già un modo di dire ai cinesi che abbiamo un prezzo. Partecipiamo a un mercato. Non siamo gratis. Terzo esempio, la Russia. Durante il Covid questo paese è stato visitato da una spedizione militare russa, spacciata per operazione di aiuti medici, che ha scorrazzato liberamente, addirittura in autostrada, a bandiere spiegate sul territorio nazionale. Ora, a parte ogni vincolo atlantico, ma evidentemente gli altri paesi atlantici, non considerandoci un soggetto, hanno detto vabbè, è normale, i russi entrano perché tanto in Italia fai quello che vuoi. Ma a parte questa considerazione, dal punto di vista italiano è stata una umiliazione. Possiamo accettare che questo accada e si ripeta? No. E allora perché non finalmente aprire una, fare una commissione di inchiesta sull'invasione russa dell'Italia, capire chi l'ha permessa ed eventualmente chi deve pagare per questo. Ho fatto tre esempi e ne potrei fare molti altri.